e arriva il gol del vantaggio non abbiamo visto bene vedete arriva il raddoppio ancora tutto il parma ha messo dentro qualche giocatore che sicuramente darà come in questo caso un bellissimo gol un tiro quando il parma ha la palla ancora un altro suggerimento molto bello e arriva il secondo gol il pareggia il parma nel giro di passa il pordenone ormai a tempo quasi scaduto allora vedete